Lungo la strada avvistiamo questa salamandra di lanza, una specie endemica di queste valli intorno al Monviso. Sulla conca del Pra incombe una cappa di nubi. Più in alto raggiungiamo il luogo dove un aereo Lockheed Neptune precipitò nel 1957, mentre stava compiendo una ricognizione alla ricerca di un altro aereo uguale caduto solo due giorni prima nelle Dolomiti. Infine arriviamo al rifugio Granero che si nasconde tra le nebbie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.